Ciao, creatura, io sono Ecate, splendente, benvenuta, bentornata, nel regno di Kusai. A-S-M-A Questa sera, questo venerdì sera, facciamo una specie di video dedica a saluti, eccetera, eccetera. Ho messo un post su Instagram, se ancora non mi segui, mi trovi con il nome Ecate, splendente. Seguimi sui cecchi ogni tanto, lì decidiamo dei video da fare insieme, se richiesti di video, oppure faccio degli haul che non mostro, ho delle anteprime di video. E per esempio ho fatto un mini haul di Action, dove ho acquistato quattro cosine e le ho mostrate solo lì. Mi sa che in questo video mi devo mettere per forza gli occhiali, perché devo leggere. Spero di non fare riflessi UFO, di non fare riflessi UFO con gli occhiali, perché so che ti distraggono, ti danno fastidio. Quindi proviamo, se sto con la faccia messa in modo strano, per non fare riflessi UFO con gli occhiali, così ti potevo stare con la testa china. Allora, allora, c'è un grido, staranno fuori. Vabbè, grazie per il like, grazie per continuare a sostenermi. Adesso di cui questo sarà con me, indossa le cuffie, che con questo microfono se no perdi tutta la magia, l'esplicianità. Perdi tutto il gusto, devi ascoltare con questo microfono, quindi metti le cuffie. Allora, il primo subito, sono tre minuti circa, salutiamo subito il piace, il piace, il piace 78. Salutiamo subito, subito, subito il piace 78, perché se no poi si addormenta e non riesce a vedere più il saluto. Infatti, infatti, la risposta ha commentato, diciamo, con, basta che mi saluti all'inizio, se no riesco di non sentirlo mai. O dopo, ventordici visual. Quindi, il piace 78, già, già, grazie per darmi tutte queste visualizzazioni, perché si addormenta dopo tre minuti e forse anche meno, non lo so, forse un po' di più. Comunque, comunque, si addormenta subito e quindi poi dopo, curiosa, questa creatura curiosa torna, giustamente, a ricordarsi video. E quindi le visualizzazioni salgono, grazie anche, che mi supporti anche in questo modo, io non sono centrata comunque. Aspetta, qua, se faccio così, esco, no, non lo so, no, forse sono centrata, che paranoia che mi faccio. Ah, ufo, 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 ho visto, ho visto, ho visto degli ufo, eh, nel riflesso dei miei occhiali. Poi, un'altra creatura del regno di Gozai, ha commentato, a me piacerebbe anche solo un saluto, magari facendo sentire la D, come è tuo solito. e si chiama Cosandini, 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 Cos Cosantini 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 cos questo nominio, no? ti dico un segreto, eh? oddio, spero di mettere l'accento giusto Iki-Ka Mori Iki-Ka Mori Iki-Ka Mori Iki-Ka Mori Iki-Ka Mori Iki-Ka Mori spero che non mi stai facendo dire delle bestie miei giapponesi ma sembra quando già mori in finale sembra una cosa tipo, in certo penso quando diciamo ma mori stiamo dicendo una cosa brutta stiamo augurando l'amore di Dio non ti preoccupare ho sempre l'ansietta che mi facciate dire qualcosa che non dovrei tipo saluti l'orifizio così così Miss K l'orina alla Bar Simpson e chicca mori chicca mori ma io mi fido anzi se vuoi facciamo un video proprio così non sca i chicca mori 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 chicca amori cosa abbiamo invocato, me l'ho smesso, ok, allora è arrivato il momento dopo aver no, l'ho ricominciato, oh no, è perché ha detto che i camori ci dati, allora sto scherzando ovviamente, non offenderti, cioè non sto offendendo, spero che non ti offendi e giustamente mi sembra arrivato il momento giusto, con queste campagne finite, il drama che sto passando, il drama che va a Verona, perché quelli per Uvico li hanno tolghi tutti, salutiamo la nostra Queen, che si chiama proprio Queen, cioè lei è Queen, Queen, ciao Queen, to win, 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 Questa cosa, questo skill, questo skill l'ho affinata, se qualcuno se lo ricorda, penso di averlo raccontato tempo fa. Perché a scuola le superiori il professore di ginnastica chiedeva cosa volete fare oggi? E io mi mettevo appiccicata così a lui e lì qua c'è volano 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 tipo addormentato come un demone addormentavo così e allora pur di farmi stare zitta dicevo va bene e quindi dopo nessuno mai voleva far volano però se io facevo così allora dicevo va bene allora voi fate io e la mia amica a cui piaceva volano facevamo volano noi due e gli altri non so giocavano a calcio o a pallavolo insomma a me a calcio o a pallavolo non mi piaceva tanto e dicevo volano ovviamente perché non sto bene sono sempre, mi piacciono sempre così che i ragazzi non piacciono e quindi questa strategia se vuoi acquisirla anche tu funziona cioè rompere talmente le palle funziona anche per altre cose cioè anche con altri professori si si vuole rompere insomma le palle se si vuole qualcosa si può ottenere così o a meno che non sia un tipo un po' che non so facile con le note ma non ho mai preso note in tutta la mia vita quindi non so comunque cioè non vorrei che lo facessi tu e prendessi qualche nota però questa strategia mi ho sempre fatto tenere volano 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 ma perfetto non voglio assillarti poi questo commento quando l'ho letto mi ha fatto morire da ridere call me freak freak please call me freak mi ha scritto ciao a tutti chiacciolini e chiaccioline ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti chiacciolini e chiaccioline o chiaccioline chiacciolini chiacciolini e chiacciolini o chiacciolini mi fa ridere perchè il saluto di bollettino no bollettini bollettine palettini palettine e però perchè praticamente io e lei anni fa ci facevamo le videochiamate in estate e facevamo gli hangout quando ancora esisteva google hangout e di sera c'era la tradizione che ci mangiavamo chiacciola e quindi chiaccioline e chiaccioline adesso hai capito anche perchè mi fa troppo ridere infatti mi ho chiesto dovevamo organizzare in realtà già da un po' una live insieme sull'altro canale quello vecchio mio però c'è troppo caldo queste sere qua il computer butta troppo calore e tra l'altro sono appena partita anche l'edicale non so se ti rilasso o sono a me ipnotizza cioè sono con me volano 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 ti entra nella testa e diventa tipo un white noise e quindi se faccio le mie cose non mi interessa se invece storia a pensarci mi danno fastidio non so se vabbè e quindi niente si volevo fare questa live però appunto la sera c'è troppo caldo quindi queste giornate sono infernali calcolando che io ho sempre freddo quindi immagino che le altre persone non siano morendo i kikamori staranno e quindi e quindi stanno morendo di caldo adesso i kikamori lo inserirò in ogni frase preparati non per sfruttarti ovviamente ma perché mi piace il suono che fa questa parola come la mia parola preferita che è accuffini non so perché ma mi piace accuffini mi piace come suona accuffini 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 è la tua parola preferita qual è? oltre a i kikamoro creatura che adesso sarà i kikamoro la nostra parola la tua i kikamoro o i kikamori oddio adesso mi sono in dubbio lo so i kikamori eh infatti l'ho già sbagliato i kikamori non moro e io vado sempre a storpia tutto che brutta persona ma sono persona una divinità vabbè stiamo dando i numeri qua nell'otto dobbiamo finire qua i saluti allora abbiamo le ultime due che ho tenuto per ultimo perché hanno messo tipo delle idee di che bello mi piace infatti ho messo nell'info box no nel box domande e saluti ho detto che alla scelta della creatura allora c'è questa piccola frase è composta da tre parole questa creatura ha detto credo che a qualcuno possa servire sentirselo dire mi è compresa mi è compresa lei ma forse anche io ogni tanto la frase in questione è vivi nel presente vivi nel presente vivi nel presente creatura vivi nel presente 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 vivi nel croissant vivi nel croissant vivi nel croissant toc qui mi trichole fissi E l'altra cosa, che come gran finale ci sta tutto, cioè senza fare apposta creatura, mi hai creato un intro con il saluto iniziale perché s'addormenta il piace, l'abbiamo già perso da minuti fa, che è già nel regno dei sogni, ma la nostra cara Brunilde ci ha creato un finale perfetto con questa dedica, è più un saluto forse, non so, un augurio. Dormi creatura, non pensare a nulla, lo dicevi in un video che ho consumato nel tempo e che ho. Quindi dormi creatura, non pensare a nulla, finiamo il video così, in bellezza, mi tolgo anche gli occhiali, sennò devo stare tutta qui, no? Dormi creatura, dormi creatura, dormi creatura, non pensare a niente, non pensare a niente, dormi creatura, dormi creatura, dormi, 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 dormi dormi, dormi, dormi creatura non pensare a niente dormi dormi, dormi, dormi non pensare a niente non pensare a niente dormi, dormi, dormi dormi, dormi, dormi non pensare a niente dormi, dormi, dormi dormi, dormi dormi, dormi, dormi dormi, dormi dormi, dormi, dormi dormi, dormi dormi, dormi besStannete dormire besStannete dormi cremo dormi cremo dormi cremo besStannete dormire besStannete Dormi direi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte. I sogni d'oro, come sempre, spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Io ti auguro buonanotte. Buonanotte. Ciao, creatura. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.